Valentina Persia ha catturato tante risate e divertimento a Delia in occasione del Carnevale, dove ha incantato una stracolma piazza matrice con il suo spettacolo Macchetteridi. Un altro regalo dell'amministrazione comunale di Delia e loro concittadini, con uno spettacolo scoppiettante e divertente all'insegna dell'allegria e delle risate. Dopo la Sagra della Curriredra e i concerti di Povie e Lello Nalfino, altro momento importante per la piccola comunità deliana, piena di aggregazione sociale e grande partecipazione. Giorno 12 e 13 febbraio, piazza matrice sarà ancora protagonista, che coinvolgerà i bambini e i ragazzi con giochi a tema, animazione e gonfiabili. È uno spettacolo che ripercorre un po' i miei anni di carriera, che sono comunque 30 anni che faccio questo vestiere. Io parlo, racconto, rido in prima persona, perché quando scrivo devo essere io la prima a ridere, perché di solito se non rido io non rida neanche il pubblico, di tutto quello che accade a una donna e non solo. Quindi sono tutte cose che accadono durante l'arco della propria vita e molte donne, soprattutto le donne, si ritrovano e applaudono molto a quello che dico. Guarda, la prima cosa che faccio quando arrivo, prima di tutto ho assaggiato, aspetta eh, i kuduretti, anche io lo so pronunciare però. No, non si dice kuduretti, kuduretti ho assaggiato, sono buonissima, io sono una fan scatenata della cannella in tutte le sue esposizioni, quindi buonissima. Però la prima cosa che faccio quando arrivo, in un posto dove non sono messa ad entrare in chiesa e fare una preghiera, perché mi piace tantissimo un padre nostro, perché comunque per me è un'accoglienza e che insomma che tutto vada bene. Cari amici di TFN, io vi aspetto sotto palco, poi io scelterò, ci abbracciamo, mi direte come sono andata e nel frattempo vi mando un saluto. Ciao.